Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, sono sempre io e mi sorelle E siamo tornati in questo nuovo gameplay Di Reigns Allora ragazzi, dall'ultima volta io ho cominciato a giocarlo Per conto mio, infatti potete vedere Che io sono tipo passato Nell'anno 800 che ero io all'anno 1601 Ragazzi E sotto di me sono morti esattamente 59 re, questo è il 59esimo Ragazzi, il mio record è stato Di far andare avanti il mio re, non mi ricordo Qui per circa 83 anni, quindi Sono abbastanza fiero di me stesso Allora ho deciso di riportarlo perché la trama Sta diventando veramente molto interessante ragazzi Quindi se non volete spoiler chiudete il gioco Ma è a pagamento ve lo ricordo Quindi Quindi allora ragazzi, stavamo di... ho sbloccato ogni Personaggio all'interno di questo gioco Ragazzi, li ho conosciuti tutti E quindi aspettate che vi racconti la storia Quindi, ecco, questa signora qui Chiamata la Lady che potete vedere Io sto cliccando sopra voi Non potete vedere il dito Perché il dito non lo registra In ogni caso, la ragazza qua in rosso A fianco a The Foreign Princess È una ragazza che praticamente Verrà sempre chiamata All'interno del gioco c'è questa figura misteriosa Che veniva nominata poche volte Chiamata il senatore Si scoprirà che il senatore è lei E lei ci dirà praticamente Che il diavolo è occupato a riparare Il casino che lei aveva fatto E io non ce l'ho capito più un cazzo poi Perché ci dice praticamente questo Inoltre da quest'altra signora qui Cioè la strega, The Witch Ho scoperto, gli ho chiesto un modo Per poter sconfiggere il diavolo E lei mi ha sparato sei numeri Che corrispondevano a sei date Che io ho scritto qui a destra Perché ho fatto un po' di relazioni Cinque date sono passate Cioè 683, 842 E tutte quante sono cinque delle sei date Sono passate tranne una Che è del 1669 In ogni caso Che ha ancora da venire In ogni caso in quelle date Non è successo un cazzo di niente A volte non ha incontrato il diavolo Quindi mi dice che in queste date Dovrei incontrare il diavolo Poterlo sconfiggere Ma io non l'ho trovato Adesso vi spiegherò bene Perché del diavolo In ogni caso ci ha detto Che per sconfiggere il diavolo Abbiamo bisogno di fargli fare qualcosa Che non riuscirà mai a fare Come ad esempio governare il mio regno Perché è impossibile Ciò è dovuto al fatto Che come avete visto In i nostri primi gameplay Questo fantasma qua Che ci ha introdotto al gioco Ci ha detto che La nostra è una maledizione Che siamo destinati a vedere Come se fossimo il re Noi moriamo E siamo il re Moriamo E vediamo tutto quanto Come se noi fossimo il re successivo Ci reincarniamo quasi Praticamente ci reincarniamo nel re dopo Il che è una bella roba Perché siamo re Ed è una brutta cosa Perché ogni volta Si muore 9 volte su 10 In morte violenta Questo fantasma qui Ci aveva detto Che Si dice che soltanto Il diavolo Fosse stato In grado di toglierci Questa maledizione E io stesso Ho incontrato il diavolo Un paio di volte Senza averlo portato Affrontare Praticamente I personaggi che noi abbiamo Come ad esempio Il cane L'arcivesco I personaggi vari Compaiono con gli occhi rossi E il diavolo Non mi ricordo il discorso Ragazzi Praticamente Aveva accennato Al fatto Che noi In passata Avevamo fatto Una specie di patto Con il quale Chiedevamo il potere eterno E ora Noi dovremo cercare Di trovare il diavolo Che è anche un obiettivo Se avete notato Che è anche un obiettivo Qua in basso a destra Come ad esempio Frega il diavolo Trick the devil E praticamente Dobbiamo cercare Di farlo ragazzi Dovreste riuscire A sentire il volume Ah cavolo C'ho anche dei bonus Ragazzi Come ad esempio La silk road Chiamata la strada Cioè Praticamente C'ho dei bonus E dei malus Perdo popolazione Ma a te Prendo tanti soldi Penso che sia Perché c'ho Una crociata in corso Non lo so Ecco qui Cruciata Infatti c'ho una crociata in corso È una grandissima Palla ragazzi Perché se c'ho troppi soldi La gente muore Io perdo Se sia se le cose Vanno al minimo Che se vanno al massimo Che abbiamo il generale Che ci dice Un gruppo di persone Hanno deciso Di cacciare le streghe Possiamo Necessari Uccidere Necessari Uccidere Se potiamo Guarda che ben giacca Adesso non diciamo di no Il dottore Ma ci sapete cosa ragazzi Ora che vi ho introdotto Io Faccio apposta Fermo qua la registrazione E torno dopo che non c'è più Non c'ho più questi bonus Questi malus Che in ogni caso Bonus e malus Non esistono Perché se i soldi Raggiungono il massimo Vediamo se lo vedete Vediamo se i soldi Raggiungono il massimo Che succede Aspettiamo Ecco qua Guardate che ci dice ragazzi La tua corte È ricchissima Abbiamo Stiamo facendo un party Per celebrare Con soldi Con soldi Cibo Vini E tutto quanto Noi Moriamo come Robert Baratheon Ho mangiato così tanto Che ci siamo strozzati E tutti quanti erano così ubriachi Che ci sono accorti Che noi siamo morti Solo il giorno dopo Brutti bastardi Aspetterò che I bonus e malus Guardate un anno ha regnato Perché tu devi Quando hai questi bonus Malus Devi essere veloce Perché Non è che aumentano ogni turno Ma aumentano ogni secondo Aspetterò che i bonus E i malus Compaiono Anzi Forse sono già scomparsi No Ce li abbiamo ancora Ci si vede dopo ragazzi Ok Ciao a tutti ragazzi Sono tornato E Non sono riuscito a finire Gli effetti Della fottuta Dei fottuti soldi Non ho finito Non sono riuscito a concludere Gli effetti delle crociate E questo sarà un bel problema Ragazzi In ogni caso Qui come potete vedere Sulla linea temporale C'è la stella Che significa Che noi Potremmo trovare il diavolo Devo andare a veroce Perché i soldi Continuano a crescere La popolazione a diminuire Voglio visitare I nostri vicini Senza Dio A meno che tu Non abbia bisogno Di me qui Io direi di no Perché tutti lo odiano No il popolo non amava Qua mi dice A boiate Che potete leggere Anche da sola facile Cosa? Qua L'amascus Risiede Colui che Terrà i segreti Nel mondo Io spero Che lui abbia Una buona Ragione Per venire qua Io devo dire Che tutte le crociaglie Sono Niente ragazzi Abbiamo finito Aspettate Devo andare veloce Che forse Ma non è l'effetto Io ti darò la vita Che questo Che non mi Vi spiego bene Dopo ragazzi Ah si Questo che praticamente È stato un vaso Che noi È un vaso Con dentro Un nucleo Che noi abbiamo Trovato in giro Ragazzi Questo apparecchio Qui tanto Ormai la popolazione A zero I soldi sono Il massimo Abbiamo perso Questo apparato Qui mi ha creato Lui può aiutarti A recuperare Qualsiasi cosa Vivente Sai cosa vuoi Sai cosa vuoi Ricreare Sì No Tu non lo sai Guarda molto attentamente Per qualcosa Di cui tu hai bisogno E incontrami ancora Alla mascus Yes Ok La tua gente È morta di fame E va Ah sono stato Rebbiamente Torturato Ah per il levardo Io ho nascosto Il tesoro Perché C'erano i soldi Al massimo E cose al minimo Ok ragazzi Però Insomma Porca troia Non Gli effetti Delle crociate Non finiscono mai Impossibile Fanno gameplay Così Gioco di merda Cioè Dai Qua non posso leggere Le tue persone Stanno venendo di fame Ancora Porca troia Eh ragazzi Finché non mi finisce La crociata Io non posso far niente E abbiamo saltato Il diavolo Ma tutte le altre Il diavolo L'anno in cui Non incontravamo Il diavolo Ragazzi Che per me È del tutto casuale Il diavolo Si presenta a noi Casualmente Non le date Prestabilite Voglio Fare Guardate qua Che bello Però Voglio fare un ritratto Movente di te stesso Mi lord Io gli dico Un ritratto Movente E lui mi dice Bisognerò un disegno Sul tuo corpo Come arte moderna Cioè i tatuaggi Di quelli si Mi piacerebbe condurre Una ricerca Sulla trasmutazione Della pelle Va bene Sì sì Ti finanzio Una grande parte Della nostra comunità Sta Adorando falsi dei Dobbiamo bruciare Le chiese Le chiese No Tu non devi farlo Ecco qua La strega No La di Lena Sì sì Praticamente Il fiume è troppo pericoloso Uno costruisce una diga Sì È pericoloso Non so perché Miore Sembra Il tuo sacco Siamo veramente Molto povera Dovremmo spendere un po' Su questo problema Certo che sì Potremmo avere un problema In modo C'è cominciato a mordere Sui fratelli In possessione Sì tipo C'è Quindi Ci sono i lupi manari Anche Noi ogni Ogni volta Generale Generale Questo qui Probabilmente è un caso Di ricantropia Non mi intendo In questo Io ora Vado dal comandante Gli dico Terò comando In generale Se ci sono i lupi manari Non ho ancora capito Nulla di loro Lupi manari No Io non lo dico così No no Dovete chiamarci E loro Dicono solo boiata Ragazzi Mi fanno perdere tempo E basta Ecco la cortigiana I baroni dell'est Ci stanno attaccando Dobbiamo Come dire Vinceremo soltanto Reclutando Il popolo Ma il popolo è già Morto di fame Popolo di merda I soldi sono al massimo E la via dell'oro Non si appresta Finale La crociata di merda Che mi dà questi effetti Del cazzo Non si appresta a finire Ancora C'è una crisi nella tua chiesa Abbiamo bisogno di costruire Più chiese No No Gli diciamo Certo Facciamolo No Abbiamo bisogno di rifare una riforma E noi Wow Non così veloce Guardate che devo fare Per la popolazione Che è sempre il minimo Io non sono qui Io sono un ombra Lui è la nostra spia Io perdonami Dobbiamo Bisogna costruire Bisogna costruire Difese migliori Va bene La tua gente Sta morendo di fame Che muoia di fame Ragazzi Re di merda Madonna mia Non vedo l'ora Che muoiono tutti Il diavolo Ci ha detto Mi sono dimenticato Di dire È vero che il popolo C'è una trappola Qui usiamo la porta del sale È un veicolo cieco Dobbiamo tornare indietro Ora abbiamo la neutral door E la fire door Io vado dentro la porta neutrale Troviamo Il buio Ci sono due uscite Io dico Andiamo a sinistra Comunismo I combattimenti ragazzi Sono bellissimi Questo gioco Lo scheletro Piange E grida Sinistramente È una spada molto lunga Praticamente Qua Facciamo i dialoghi Con Manteno Lui ci dice Sono un cadavere Morto noioso Intrappolato E uno stupido rapinto E io gli dico Può dirgli Io gli dico Ogni roba che gli dico Ha una mossa diversa La vita fa schifo Oppure E cosa ne pensi di me Io gli dico La vita fa schifo L'attacco Qua sta cantando E dice Bohiate Doppi attacco È utile Attacco L'ha parato Porca troia Mi ha ferito A parte A parte per Victor Io sono Sa solo Tutto il tempo Io gli dico Andiamo indietro Ok Ora Bene Guardate che bel attacco Possiamo fargli Paffanculo Ci siamo incrociati Le spade Bene Questo attacco Qui è buono Bene L'abbiamo distrutto Ragazzi Abbiamo vinto Abbiamo anche Parato Una nuova mossa Lo scheletro Si è spaccato Ha deciso Di non rimanere Attorno A vedere se si ricostruisce Andiamo nella porta della terra Possiamo solo andare a sinistra Ecco qui Goddor Io Si trova sempre una cesta Non ho mai provato A portarmela dietro E dico portiamocela dietro Dobbiamo tornare indietro Ora Il labirinto cambia continuamente Io dico Usiamo la porta del fuoco Che non mi sembra L'abbiamo usata Porta dell'arsenico Ci uccide sul colpo Quindi Usiamo la porta dell'aria Ecco Dobbiamo essere a fine Senti Vedi Alcune Luci dietro la porta Io dico Prendi a calci la porta Il tuo piede ti fa male Ed è inutile E' inutile Prendere a calci la porta Quando andiamo in un labirinto Ragazzi Siccome Data l'assenza del re Tutto quanto si deteriora Bestia Però Tuttavia Vaticamente Entrare in un labirinto Ora che tu trovi la via Di uscita Ti ritrovi tutto a zero Quindi sei costretto a perdere Senti l'aria fresca E vedi una porta Si Non possiamo farci un cazzo Decidiamoci Ah Abbiamo trovato un modo Per Guardate qua ragazzi Sei riuscito a trovare un modo Per poter uscire dal dungeon Ma Tu Ma il tuo padre Ma tu Praticamente è successo Che abbiamo perso ogni potere E Un nuovo re Ha preso il nostro posto Vediamo se ci abbiamo ancora Siamo durati un anno ragazzi Scomparsi gli effetti ragazzi Dio sia benedetto Dio Interrompo qua Così il gameplay Serio inizia Ok ragazzi Sono tornato Quindi Il gioco è bello Però Maledizione a volte Ti regala di quelle Non ti regala soddisfazioni Ora possiamo fare con calma Gran parte del gameplay Di prima lo toglierò Il messaggio dice Un villaggio nel sud Sta incoraggiando la poligamia Io non gli diciamo Manda la chiesa Che dovrebbe andare su Ok Ah ok Quindi Tutti Ok quindi Praticamente succede Che lui ci dice Vogliamo continuare la crociata E io gli dico di no Che era già finita prima Ma non è importanza La nostra corte È in pace E abbiamo un buon business Cani del cazzo Dovresti Dovresti costruire Tenere il tuo tesoro Pieno Per situazioni di crisi Io dico di sì Anche se abbiamo ora la chiesa Esercito Che non sono messi benissimo Il re dell'ovest Ha informato È il corrente dello stato E il nostro esercito E dovremo E quindi dovremo Ci sta attaccando Ora è sempre meglio dire Ritirarsi e raggrupparsi Perché così facendo Va su Sia Il popolo E l'esercito Ma non su Una piccola compagnia Dei tuoi Soldati ubriachi Ha Ha rapito Ha fatto casino Alla bazzia Vogliamo giustizia Noi diciamo di sì Perché abbiamo anche poco Sia messi male con la chiesa Master Avenzoar L'esercito Invaro Salone Sta usando Dei 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 trabocchi Per distruggere Le nostre fortificazioni Noi diciamo Eh no Bisogna Continuiamo a difendere Ragazzi La gilla dei mercanti Sta vendendo dei beni Che tradizionalmente Dovrebbero essere stati Prodotti dai monaci Poi nella fine a tutto questo Noi diciamo di sì Perché abbiamo poco Ok È tutto stabile Ora più o meno Mio signore Non puoi fermare Il commercio Per favore Riconsidera Anche se ciò significa Pagare una nuova tassa Io dico Di sì Così facendo Ecco Siamo perfettamente bilanciati Invece Deve condurre Una messa In onore di tuo padre I miei Sessantesimi Padri morti Dopo un anno Ok Allora Noi diciamo Di sì Se noi diciamo No Per mai l'esercito Si incazza Quindi Diciamo di sì Mio lord Whisper Non so che significa Saresti interessate In Enterprise In Abode Enterprise Non so che significa Dico di sì Possiamo investire Nel trattamento Con gli schiavi Posso garantire Che frutterà Molti soldi Io gli dico Di no Perché se mi succede La stessa roba Perché se mi succede La stessa roba Che è successa Prima con la crociata Cioè che i soldi Continuano ad andare su Succede che tutti quanti Moriamo Perché siamo troppo grassi Ora abbiamo Harry Il giustiziere Dovremmo creare Un museo Della scienza Per collezionare Tutte le creature viventi Posso aiutare Nel mio tempo libero Io gli dico Di no Perché vedo Che così facendo Siamo messi bene Con tutti Perché se no La chiesa si incazzava Qui ci dice Dovremmo Fare un Commercio con l'Oriente Io gli dico di no E nemmeno Se mi dà interesse Del 20% Perché se no Succede che Ci danno I fattuti malus Questo qui ragazzi È un malus Inutile Cioè È un È un vantaggio Più che altro Cioè Non possiamo Mai perdere Quel gioco d'azzardo Dovremmo automaticamente Incolpare Ah si Dice Dovremmo automaticamente Incolpare Gli abitanti Delle isole Per tutto quello Che succede Di male All'interno Degli impero Io gli dico di no Un reptile affamato Ah È la spia Questo qua Quindi parla Sempre in modo programmatico Io gli dico No Fottiti Non ti mando Di investigare A pochi soldi I baroni Dell'est Ci stanno attaccando Vinceremo soltanto Reclutando La popolazione Dico di sì Che tanto Popolazione Siamo messi bene Eserciti Siamo messi male Così facendo Siamo a posto Hai bisogno di un prestito Fottiti Il cubo Mi piacerebbe Costire un ospedale Per poter Ci aiuta A prevenire malattie Ecco qua Ci prevenne le malattie Ma abbiamo pochissimi soldi Mio lord Le nostre Le nostre Relazioni commerciali Con l'oriente Con l'est Sì con l'oriente Stanno deteriorando Velocemente Sono molto più ricchi Di noi Quali sono le opzioni Che sono le pizze Una bella crociata Fottiti al quadrato Mi piacerebbe Adornare la basilica Con un grandissimo A fresco Storia dell'arte Pieno di Pieno di Averdegoria Delle tue virtù Io gli dico No perché non ho soldi Mi costa un occhio Ragazzi Un gruppo di fanatici Ha circondato All'ospedale Pretendendo che Solo dio Può curare Per mezzo Del tuo magico tocco Mio signore No gli diciamo Di no La chiesa Si incazza Non all'esercito Vassù Mostrerò La via Della rettitudine Ai nostri Vicini Ah no Scusa Ai mercanti Posso farlo Io gli dico Di no Per favore Posso pagare Io gli dico Di sì Anche se cominciano A essere messi male Ah qua Ci dice Sire C'è stato un problema Con Io gli dico subito Perché sto qua Te pagherò Perché se no Tutto il resto Va a puttane La tua corte È rominata Ecco qua È andato così male Che siamo Perfissino Stati Sei stato torturato Il tuo corpo È stato buttato Ai cani Il tuo nome È diventato un insulto Questo gioco Come stavo dicendo Prima Non regala mai soddisfazioni Andiamo qua Un attimo A vedere Ecco qua Un momento Mori ragazzi Tutti i modi Che puoi morire Ragazzi Partiamo dal basso Quindi ragazzi Questi qua Sono tutti i modi Che possiamo morire Ci abbiamo Bruciato da un drago Morto per vivere la peste Morto sul dungeon Spodestato Morto dei cibi Morto per aver mangiato troppo Morto torturato Morto torturato Abbandonato A governare con l'ucciado Che ancora ancora Governare con l'ucciado Che ancora con una fine È abbastanza buona Avvenenato Morto difendendo il trono Dagli invasori Ucciso da una rivolta pagana Torturato E smembrato Dalla chiesa Perché la chiesa arriva Utilizzare il potere Ci dice Tu morirai Tu morirai come un martire Perché sei una brava persona Tipo Perché il martirio Per la chiesa È una roba buona È vista bene Però io non mi farei torturare Diciamo Qua siamo Morti di malattia Qui siamo stati lasciati morire In un dungeon Praticamente Quando l'Esserge Sottiene di controllo Succede che Ci chiudono la torre E ci lascia morire là Siamo morti e bruciati Dalla chiesa come eretico E l'unica morte Che non è violenta Che proprio È il good ending Ragazzi Sottiene quando Hai il popolo al massimo Che tu perdi Però ci dicono Che nessuno Compare questa icona qua Quella lì di James L'anziano Che ci dice Nessuno ti ha fatto del male Cioè Sei stato spodestato Ma nessuno ti ha fatto del male Sei morto molti anni dopo O bene ricordato E amato dal popolo Una good È un bel modo Per morire su mille Cioè Per l'amore di Dio Uno può anche essere felice Di morire Perché ha mangiato troppo Ragazzi Però Insomma Non è che mori Perché ha mangiato troppo Ma proprio Si strozza Anche lì Non è bello morire così Ok Siamo a Edward Il 71esimo re I nomi sono molto Ripetitivi ragazzi Cioè Potevano farti meglio Proviamo a vedere Se qui riesco a farvi Incontrare il diavolo E poi dopo Finisco perché Verrà fuori mezz'ora Di gameplay Il fantasma Il fantasma ragazzi Fighissimo Qua ci dice Robi importanti Bene ragazzi Dall'inizio del gioco Che non ho l'incontro L'ultima visita Del diavolo Si sta avvicinando Il giovane re Siamo pronti Riusciremo a prevalere Sì Lo spirito lentamente Scompari E qua si ricomincia a governare Come sempre ragazzi Sperando di non morire Ah quindi Quindi le date che ci ha dato La signorina puttana Cioè che io mi sono anche scritto Qua a destra ragazzi Perché mi sono messo lì Col telefono A controllare le date E alla sinistra avevo il foglio Ah sì Sinistra telefono Destra foglio E controllavo così Le date Per capire Qual è La connessione Tra quei numeri Che poi Ci sono arrivato subito Che erano delle date ragazzi Che non ti dice Che sono date Ti dice solo Che sono numeri E praticamente Erano tutti quanti inutili Perché il diavolo Come lui stesso Mi ha detto La sua ultima visita Sarà nel 1998 Ragazzi Non so se è una data particolare Perché tipo È caduto un regno E robe varie Non è importanza Abbiamo bisogno di soldi Per organizzare La festa annuale Dell'estate E robe varie Sarà fantastica Quest'anno Gli dico di sì Va sulla popolazione Vanno i soldi Ma va bene Un convento di suore Ha iniziato a miagolare Come se fossero Dei gattini Mi metto bene le cuffie Tipo false Falsse possessioni Ragazzi E si sta diffondendo Tutto in villaggio Qua succede Che noi Ogni problema Ogni problema Diciamo Generale Io gli dico Perché dovremmo interessarmelo Perché l'esercito È più importante Della chiesa Qua dice boiate Il mercante Un mercante straniero Sta vendendo Di nuovi utensili Dovremo compiare Io gli dico di no Che ci manda sui soldi Hai fatto un errore Ora il mercante Ha chiesto di incontrarti Io di solito Gli dico di no Perché non ha conseguenze Ma stavate Dico di sì Ed è una principessa straniera L'ho capito Il fatto che è nera Sorpreso Di incontrare una donna Una donna D'affari Nella mia città Le donne Non sono inutili Come in questa corte Benvenuta Per favore Vattene via E basta Maschilismo Confirmed Ah ragazzi Tempo fa Tipo All'inizio Laggava il gioco Ragazzi Cioè Laggava anche qua Perché dovevo settare bene Io le impostazioni Perché giustamente Io Mi aspettavo Di trovarle Già preimpostate Però tuttavia Essendo gratis Cosa mi aspettavo Cioè Mi sono aspettato troppo Dovuto impostarmi io Con calma Dovresti organizzare Una bellissima Che cazzo Mi stai dicendo La che è coperto Dalla scritta Vabbè Dovresti organizzare Qualcosa Io non ho idea Di cosa sia Le strade della capitale Non sono Ah sì Tipo più battuglie di notte Io gli dico Di no Così facendo Vaffanculo Vabbè Ma altrimenti Spendiamo troppi soldi Il regno del sud Dice che tu abbia È dall'inizio del gioco Che mi dice Queste robe qua ragazzi Io non ho ancora capito Cosa significa Che tu abbia Rapito la loro Giovane principessa Io lo truco Con rapito Ma non so Che significa Ma non penso Però penso Che sia tipo Che tu debba Sposare La loro giovane principessa Declinare Sarebbe un trattato Di guerra Noi accettiamo Così facendo Tutto va su Questo oltreggioso Generale Ah sì Generale Coso È stato visto A letto Con sua moglie Con la regina Chi dovremmo Chi dovremmo Giustiziare Io dico Ho sempre Giustiziato la regina Mi dire Per una volta Giustiziamo il generale Arriva l'uccello Possiamo dirgli Arriva l'uccello Ci porta messaggi Di solito Grazie pure Chi si occupa Di questo uccello Sono tutte e due Robi inutili Posso insegnarti Un paio di robe Riguardo alla magia nera Sì Alla magia bianca Un modo per poter Scoprire la felicità Qualcos'altro Un modo per trovare La mole Non mi serve a niente Qualcos'altro Un modo per poter Fregare il fatto L'ho già fatto E così facendo Mi hai dato l'impossibilità Di non perdere Ai giochi di azzardi Un gioco per Un modo per poter Fregare il diavolo Io gli ho già chiesto Mi ho dato le date Mi dice sempre le stesse robe Qualcos'altro Sorre scusami È tutto quello che ho per ora Never mind Non importa Non importa Regina Luci Mio caro Sto morendo Non so perché Ma per favore Lasciami riposare Nella tomba Dei miei cari Io gli devo dire di no Perché se no Ma porca troia Adesso io gli dicevo Di ci andava tutto Ah Qualsiasi cosa dica Mi manda giù Molare di tutto quanto Perché giustamente Ci rimangono male Che la regina muore Ci rimangono male Della regina muore Poi loro sono i primi A uccidermi Torturarmi Torturarmi Uccidermi In ogni modo Quindi vaffanculo Popolo di merda Il fatto di fantasma All'inizio ci aveva detto Fa attenzione Là fuori sono tutti Un po' pazzi Ho sentito strani rumori Dal castello La notte scorsa Dovremmo Avere più guardia Investigare No perché Il esagito Ci scende Va a puttani tutto Dovremmo creare Un Un Per il grimangio Alla tomba Di Sant'Armando Sant'Armando L'ho studiato Io la basilica Di Sant'Armando No 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 Non è importante Se gli dico di sì Perché di solo Dice ne abbiamo Ho trovato un fungo Il papa Il papa ci dice Ho trovato un fungo Blu e uno marrone Nella foresta Quello blu Sembra buono Io gli dico di no Perché praticamente Ci droghiamo E vediamo gli omini Con le orecchie Da coniglio Per il resto è inutile La guerra è lunga E dolorosa Chiamiamo per Io gli dico di sì Cazzo Non so Non l'ho tradotto L'esercito invasori Sono alle porte E siamo troppo deboli Per poter combattere Hai guidato Gli ultimi remasugli Del tuo esercito A morire E sei morto Davanti Per poter Proteggere il trono Vaffanculo Tra l'altro ragazzi Io sono anche riuscito A Mi sembra Di essere riuscito Anche Dalle informazioni Che mi danno A scoprire Tipo La geografia Di questo luogo Noi siamo Tipo in una situazione In una posizione Centrale A nord e a sud Ci abbiamo Dei regni Ragazzi E mi sembra Che a est Ci abbiamo Invece Di baronati Indipendenti Mentre a ovest Ci dovrebbe essere Sempre un altro No forse a ovest Non c'è un cazzo Sono sicuro A nord e sud Ci sono dei regni E a est Ci sono dei baroni Indipendenti Popoli barbari Forse infatti A ovest Ragazzi Non c'è niente Proprio perché Dovrebbe esserci il mare Con il quale Noi mandiamo avanti Gli avventurieri A fare rotte commerciali In altri continenti Altrimenti Se fossimo Nell'entroterra Non potremmo Fare delle rotte commerciali Per esplorare Altri continenti In ogni caso A parte queste Pippe mentali Che ho fatto Per potermi Per potermi Come dire Imparare Potrei fare Tipo Un'idea Di come funzioni Di come si è fatto Sto regno Ragazzi Ditemi se il gameplay Vi è piaciuto E se va bene Potrò altri gameplay Anche dove Presumabilmente Riusciremo a Confrontarci Col diavolo Ciao a tutti